Oggi voglio condividere con voi un mantra per attrarre denaro e prosperità nella vostra vita. Un mantra è una formula sacra che viene ripetuta per attivare il potere dell'intenzione e della preghiera. Può aiutare a concentrare la mente, a generare energia positiva e ad aprire la strada all'abbondanza. Questo mantra che vi propongo può essere utilizzato come una sorta di preghiera, per aiutare ad attrarre la ricchezza e la prosperità nella vostra vita. Ecco come funziona. Il mantra va ripetuto nove volte, idealmente al mattino presto o alla sera prima di dormire, quando la mente è più propensa a rilassarsi e ad aprire la strada alle energie positive. Le parole da ripetere sono. Abbondanza e prosperità fluiscono liberamente nella mia vita. Sono aperto e pronto ad accettare tutte le benedizioni finanziarie che mi vengono offerte. Ringrazio per l'abbondanza che è già presente nella mia vita e attiro ancora di più. Grazie, grazie, grazie. Abbondanza e prosperità fluiscono liberamente nella mia vita. Sono aperto e pronto ad accettare tutte le benedizioni finanziarie che mi vengono offerte. Ringrazio per l'abbondanza che è già presente nella mia vita e attiro ancora di più. Grazie, grazie, grazie. Abbondanza e prosperità fluiscono liberamente nella mia vita. Sono aperto e pronto ad accettare tutte le benedizioni finanziarie che mi vengono offerte. Ringrazio per l'abbondanza che è già presente nella mia vita e attiro ancora di più. Grazie, grazie, grazie. Abbondanza e prosperità fluiscono liberamente nella mia vita. Sono aperto e pronto ad accettare tutte le benedizioni finanziarie che mi vengono offerte. Ringrazio per l'abbondanza che è già presente nella mia vita e attiro ancora di più. Grazie, grazie, grazie. Abbondanza e prosperità fluiscono liberamente nella mia vita. Sono aperto e pronto ad accettare tutte le benedizioni finanziarie che mi vengono offerte. Ringrazio per l'abbondanza che è già presente nella mia vita e attiro ancora di più. Grazie, grazie, grazie. Abbondanza e prosperità fluiscono liberamente nella mia vita. Sono aperto e pronto ad accettare tutte le benedizioni finanziarie che mi vengono offerte. Ringrazio per l'abbondanza che è già presente nella mia vita e attiro ancora di più. Grazie, grazie, grazie. Abbondanza e prosperità fluiscono liberamente nella mia vita. Sono aperto e pronto ad accettare tutte le benedizioni finanziarie che mi vengono offerte. Ringrazio per l'abbondanza che è già presente nella mia vita e attiro ancora di più. Grazie, grazie, grazie. Abbondanza e prosperità fluiscono liberamente nella mia vita. Sono aperto e pronto ad accettare tutte le benedizioni finanziarie che mi vengono offerte. Ringrazio per l'abbondanza che è già presente nella mia vita e attiro ancora di più. Grazie, grazie, grazie. Ripetendo questo mantra nove volte, concentrandosi sui sentimenti positivi che esso genera e immaginando che la ricchezza e l'abbondanza stiano già fluendo verso di voi, potete attivare il potere della preghiera e della positività nella vostra vita. Vi invito quindi a ripetere questo mantra con fiducia, con la certezza che l'abbondanza e la prosperità siano già presenti nella vostra vita, e che solo bisogna accoglierle e abbracciarle con gratitudine. Spero che questo mantra possa aiutarvi ad attrarre l'abbondanza e la prosperità nella vostra vita. Grazie per avermi ascoltato.